Bene arrivati a Timeline, buona domenica a tutti e a tutti, lo riconoscete, Total Eclipse of the Heart, perché? Perché quella che vedete alle mie spalle, in questo studio bellissimo, è l'eclissi solare parziale che c'è stata questa settimana, un'immagine che davvero ha fatto il giro del mondo, con tanti punti di vista diversi, e rimaniamo sull'ambiente, parliamo del nostro pianeta, perché? Perché partiamo da una notizia, perché fa caldo, e questo lo sappiamo, tutti si parla di novembrata, perché nella storia, da quando ci sono le rilevazioni, non c'è mai stato un novembre così caldo, è caldo record, noi parliamo anche di cambiamenti, con un interlocutore davvero molto prestigioso, sono davvero contento di avere qui con noi, il fisico del clima del CNR, signore e signori, Antonello Pasini, benvenuto, grazie, grazie, buongiorno, grazie per essere qui con noi, la accogliamo così, avvolti da queste eclissi, hai visto che bello? Sì, molto, molto. Allora, caro Pasini, voglio partire con lei dal mio tablet e partire da questo hashtag, che è virale sui social, perché per la prima volta nella storia, si parla di, ecco qui, novembrata, tutti siamo abituati a conoscere l'ottobrata, no Pasini? Però si parla di novembrata, perché partiamo da questa notizia del Corriere, arriva in Italia la prima novembrata della storia, e in arrivo l'anticiclone di Halloween, questo è quanto si dice sui social, con lei vogliamo fare proprio chiarezza, di cosa si parla quando si parla di novembrata e quanto è preoccupante questo caldo record, come viene definito? Sì, noi siamo abituati alle ottobrate, soprattutto romane, al centro-sud, no? Quest'anno novembre è molto siccitoso da un lato e molto caldo dall'altro, quindi si parla di novembrata, eravamo abituati all'estate di San Martino, no? Queste cose qui. Adesso purtroppo, io direi purtroppo, siamo invece in una tendenza molto diversa, quindi con un caldo molto forte che porta con sé l'assenza di precipitazioni, e questo è particolarmente, come dire, importante e decisivo nel mese di novembre e di ottobre, che sono i mesi più piovosi dell'anno. Noi veniamo da una primavera estremamente siccitosa, una strata molto calda in cui non ha piovuto quasi per nulla, adesso se anche a ottobre abbiamo osservato questo e a novembre ci aspettiamo qualcosa di simile, insomma per le nostre risorse idriche ci sono sicuramente dei problemi. Ecco, ha citato l'estate che abbiamo vissuto, no? Ma anche gli ultimi mesi, perché sono stati ancora distinti da un lato dalla siccità, una siccità molto forte, no? Dall'altro lato abbiamo visto il maltempo, abbiamo visto quella situazione nelle Marche, allora voglio partire con la clip 1 e ripercorrere le immagini più virali sui social, ma anche più preoccupanti di questo clima che adesso, grazie al suo apporto così prestigioso, e Pasini possiamo iniziare a capire di più. Partiamo dalla clip 1, vediamo. Non, 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 non è da qua, non è che gli immagini più virali, no, oh Dio mio, oh Dio mio, oh Dio mio, oh Dio mio! Sì, 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 sì. La vedevo alzare lo sguardo, era praticamente attento a queste immagini, preoccupato? Ma assolutamente sì, perché questa è una tendenza che stiamo vedendo negli ultimi tempi ed è assolutamente purtroppo in accordo con quello che vedono i nostri modelli, cioè l'azione antropica umana ha portato soprattutto nell'area del Mediterraneo questa estremizzazione, quindi eventi di caldo molto forte nel momento in cui arrivano correnti più fredde disastri perché abbiamo un mar Mediterraneo estremamente surriscaldato e questo fornisce vapore acqueo all'atmosfera e il vapore acqueo, io dico sempre, le molecole di vapore acqueo sono i mattoni su cui si costruiscono le nubi, perché le nuvole, come le chiamiamo solitamente, sono fatte di vapore acqueo condensato in acqua liquida o diventato addirittura ghiaccio, quindi c'è più materiale per formare le nubi. E poi questo mare dà energia e l'atmosfera non può far altro che scaricarla violentemente sui territori, purtroppo in questa maniera. Lei tra l'altro ci ha portato insomma dei materiali interessanti da analizzare, voglio però partire da questa foto che sicuramente la renderà orgogliosa e felice, cioè il suo incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Eccola qua, vedo che sorride. La vediamo qui a sinistra, zoom così possiamo vedere e capire bene e al centro abbiamo il Presidente della Repubblica. Cosa avete firmato al volo così capiamo quanto è importante? Dunque noi abbiamo portato al Presidente le 223 mila firme della petizione per mettere il clima al primo posto allora nella campagna elettorale, adesso nel governo, che nel mese di agosto ha raccolto oltre 200 mila firme, quindi voglio dire la società civile effettivamente ci punta su questo. E dato che la politica a volte è un po' indietro, abbiamo voluto portare questa cosa al Presidente Mattarella nella formazione del nuovo governo insomma. Che valore ha avuto per lei questo incontro? Molto importante perché il Presidente è stato molto carino diciamo così con noi e ha detto addirittura mi fa molto piacere incontrarvi perché voi scienziati e i giovani siete le due avanguardie del paese quindi insomma in qualche modo molto molto carino. Bellissimo, allora siamo partiti da questo caldo record, da questa novembrata no? Tra l'altro sui social Pasini, lei lo saprà, si parla molto no? Partiamo da questa battuta, una battuta. Siete pronti per la prova costume? Hashtag novembrata perché insomma possiamo prepararci anche a questo e poi si coglie un lato quasi positivo Pasini perché scrivono qua ridiamo e scherziamo ma se dopo l'ottobrata e la novembrata arriva pure la dicembrata abbiamo risolto il problema delle scorte di gas. Forse l'unico aspetto positivo di questo... Sicuramente è un aspetto positivo però poi purtroppo ce ne sono altri insomma. Ecco l'aspetto positivo è il risparmio forse sulle bollette no? Però arriviamo agli aspetti negativi cioè perché dobbiamo preoccuparci? Voglio mostrare proprio il grafico che lei ci ha portato. Allora si può spiegare bene che cosa vediamo così? Anche il pubblico che ci segue capisce? Ma qui a sinistra sostanzialmente c'è l'anticiclone delle azzorre cioè quello che ricopriva le nostre stati o il semestre caldo negli ultimi decenni che era un cuscinetto di aria stabile che ci proteggeva da un lato dalle perturbazioni che passavano al nord Europa e dall'altro dal caldo feroce africano che rimaneva lì. Adesso invece il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord quindi per capirci prima le freccette spingevano da ovest verso est adesso invece siamo da sud verso nord sostanzialmente e ci stanno arrivando addosso quegli anticicloni che una volta rimanevano sempre sul deserto del Sahara e quindi questi portano un caldo molto più forte ovviamente un'assenza di precipitazioni altrettanto forte però hanno un difetto che quando tornano sul deserto noi siamo in balia delle correnti più fresche e più fredde e quando arrivano queste correnti su un mare così caldo su un'atmosfera così calda e umida purtroppo si creano questi disastri che abbiamo visto per esempio nel caso delle Marche ma purtroppo in tanti altri casi con anche dei morti ricordiamoci che poi questi episodi poi possono provocare veramente dei problemi per ognuno di noi nelle Marche sono morte delle persone insomma davvero poi ci possono toccare da vicino proprio per questo le voglio chiedere Pasini anche per interpretare quello che uno può pensare da caso uno può dire vabbè fa caldo anzi sono quasi più contento che insomma in questo periodo autunnale ci sono le temperature un po' più miti ci fa capire bene invece perché è un allarme cioè perché è preoccupante quale può essere poi l'effetto su ognuno di noi perché ci dobbiamo preoccupare? L'allarme è quello soprattutto per le risorse idriche noi abbiamo già passato un'estate ultima con problemi insomma ovviamente non siamo ai livelli del fimsicità di Virzi sì è chiaro però insomma i problemi ci sono e ci saranno e anche perché non c'è soltanto la parte d'Italia dove la risorsa idrica dipende dall'acqua ma anche quella dove dipende dalla neve pensiamo se nevica a quote sempre superiori se i nostri ghiacciai si stanno ritirando sempre di più la pianura padana stessa ha problemi di siccità quest'anno ce ne siamo accorti non lo sapevamo sostanzialmente in maniera così forte ma il nostro granaio d'Italia è molto sensibile a quello che succede in autunno e in inverno ecco perché se l'autunno continuerà in questa maniera noi dobbiamo preoccuparci Dobbiamo aspettarci quindi per esempio un'estate 2023 come quella del 2022 cioè quella siccità così forte? Ma questo non possiamo dirlo perché il clima ha una variabilità naturale cioè ci può essere un anno più caldo, un anno più freddo non è questo che ci preoccupa come climatologi quello che ci preoccupa è la tendenza cioè il fatto che negli ultimi anni ci sono sempre stati anni più caldi, più siccitosi e così via oppure con dei disastri come quelli che abbiamo visto allora questa tendenza che è come dicevo prima in sintonia con quello che dicono i nostri modelli ci fa capire che dobbiamo fare qualcosa chiarissimo e diciamo che l'attivismo in questo caso ci può aiutare è virale questa card sui social dove si scrive ottobrata, novembrata mi viene cancellata perché il cambiamento climatico della serie si usano queste parole molte volte per addolcire ma in realtà è una crisi quella in corso assolutamente allora le voglio mostrare dei casi che hanno fatto molto di scooter cioè di questi attivisti che per esempio prendono di mira le opere d'arte e buttano la vernice addosso ai quadri al di là poi di questi episodi li vogliamo mostrare per parlare poi dell'attivismo invece quello bello partiamo però dalla clip 2 vediamo cosa è accaduto nel mondo grazie a tutti Ecco, al di là di questi episodi, poi ognuno ha la propria opinione, eccetera. Possiamo invece far capire quanto è importante l'attivismo climatico, il Fridays for Future, i ragazzi che riempiono le piazze. Parliamo di loro, no Fasini? Sì, sono ragazzi molto interessanti perché hanno lo sguardo lungo, un po' come diceva Mattarella, noi scienziati e loro ragazzi siamo abbastanza uniti perché guardiamo al di là della legislatura, guardiamo alla risoluzione di un problema di questo tipo che ha bisogno di interventi strutturali, di lungo periodo e così via. E quindi insomma io sono molto, come dire, vado molto d'accordo con i ragazzi di Fridays for Future anche perché loro, io dico sempre, Greta e loro in tre anni hanno fatto più di quello che abbiamo fatto noi scienziati in 30. Perché lei sa che noi sono almeno 30 anni che facciamo report per i politici e così via, però spesso sono rimasti non ascoltati. Anche una voce, no? Che forse identificasse una generazione che non aveva ancora un modello in cui identificarsi e forse Greta ha rappresentato questo. Poi è anche una questione sociologica, psicologica, cioè una cosa è sentire qualcosa da un vecchio come me e qualcosa dirtelo invece da qualcuno che può essere tuo figlio, insomma. Quindi ovviamente ha un impatto molto diverso. Scatta l'identificazione. Allora grazie a Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, purtroppo il nostro tempo è terminato perché ci ha fatto capire anche non solo il presente ma anche il nostro futuro, su cosa fare in futuro. Quindi insomma grazie davvero per essere stato qui con noi, ci vediamo domenica prossima a Timeline. Grazie a tutti.